Inizio un nuovo anno per il calcio delle tante irpino e smaltite le festività nel prossimo weekend si ritorna in campo. E se la Virtus Avellino ha annunciato il nuovo tecnico che porta il nome di Roberto Filarmonico, Polisportiva Leone, Città di Solofra, Lions Mons. L'ultimo Montemiletto, Adox Cervinara, hanno affrontato test amichevoli per mantenersi in forma. Il Cervinara ha affrontato la compagine di Serie D del Real Agroversa ad Arienzo, allenata da Mr. Maschio, cedendo per due reti ad una, in gol per gli Irpini Castellano. La Polisportiva Leone a Giorlano ha effettuato uno scrimmage con il Gesualdo, mentre il Solofra ha affrontato il Pietri Raito. A Baiano, invece, bello fatto protagonista della Baiano's Cup, triangolare che ha visto la partecipazione della formazione di casa, allenata da Mr. Caruso, del Lions Mons. L'ultimo Montemiletto, di Checco Sgambati, è dalla compagine della SD Mugnano del Cardinale che partecipa al campionato di seconda categoria. La prima edizione è stata vinta dai Leoni di Montemiletto, che inoltre rappresenteranno tutta l'Irpinia in Italia, dopo il riconoscimento della FIGC, che ha stabilito che per il terzo anno di fila la società cara al presidente Franco Fabricatore sarà Scuola Calcio d'Elite.